Ciao, non svelare mai queste cose di te, tienile nascoste se vuoi essere felice. Prima di approfondire questo argomento, questo tema, però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, dobbiamo tenere presente questo, c'è una legge esoterica molto importante, potremmo definirla una legge karmica o di legge d'attrazione, intanto cambia poco, che dice questo, tutto quello che viene tenuto segreto si fortifica, si amplifica, tutto quello che viene rivelato si indebolisce, nel bene e nel male. Quindi le cose positive per noi, se vogliamo amplificarle e renderle ancora più positive, dobbiamo tenerle segrete, non dobbiamo svelarle. Quali sono le cose positive? Beh, sono tutte le cose che, ad esempio, ci generano un karma positivo, quello che viene chiamato il campo dei meriti. E tutte le cose che per noi sono importanti. Quindi, ad esempio, se hai dei progetti, se hai delle idee per te, se vuoi fare delle cose, se vuoi raggiungere degli obiettivi, se hai pianificato, hai dei piani per il tuo futuro, tienili segreti, tienili nascosti. Cioè, eventualmente dirgli a quelli con i quali devi interagire, ma altrimenti devi tenerli nascosti. Perché se non li indebolisci, ci sono meno probabilità che si realizzino, proprio da un punto di vista energetico. Quando fai beneficenza, e ti suggerisco di farla, quando appunto fai atti di generosità, non devi dirli a nessuno. Perché se tu fai atti di generosità, ma lo dichiari, perde molto. Perde molto da un punto di vista proprio carnico. Quindi devi tenerli segreti, tenerli nascosti. Se fai degli atti di coraggio, degli atti che vanno nella direzione, diciamo, che vanno nella direzione di stravolgere, di effettuare dei cambiamenti nella tua vita, anche gli atti di coraggio che compi, devi tenerli nascosti. Perché se li dichiari, diciamo così, perdono l'efficacia. Quindi questo è veramente molto importante. Un'altra cosa che tassativamente devi tenere nascosti, devi evitare, tutti i vanti. Cioè, tutte le cose di cui tu pensi di essere bravo, non devi vantarti. Perché se ti vanti, le indebolisci. Se ti vanti di essere bravo a fare questo, a fare quell'altro, riattivanti, di avere raggiunto un livello di capacità, di crescita spirituale, e tutto questo ambito devi tenerlo per te, segreto, nascosto. Lo diceva pure Paolo VI parlando del diavolo. Il diavolo è forte perché agisce nella penombra, resta nascosto. Nel momento in cui viene fuori, si indebolisce. E quindi tu devi tenere segreto tutte le cose positive che fai, i tuoi obiettivi. Anche la tua vita sentimentale, anche le cose che magari ti danno felicità, eccetera, non devi raccontarle. Tientele per te. Ecco, questo è molto importante. Invece se vuoi parlare, parla, non so, di quello di cui ti vergogni di parlare. Se hai fatto qualcosa che non va e vuoi raccontarlo, raccontala perché le indebolisci. Ecco, questo è importante. Seguire questa regola è davvero importante perché ci permette di migliorarci molto. Ecco, poi altre cose che ovviamente non vanno fatte e sono parlare male di altre persone. Questo perché intanto ti dà un'immagine negativa e poi sono proprio dei semicarmici negativi. Fare i pettegolezzi, parlare male di altre persone, parlare dietro. Sono tutti atti che comunque vanno evitati. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ciao a tutti.